Ciao, buon anno! Allora, oggi ricominciamo l'anno lavorativo con una nuova rubrica, la inauguriamo oggi. Si chiama, ah, non lo sapevo, rivelazioni ostetriche. Partiamo con un super super classico, cioè i bimbi vanno svegliati per dargli da mangiare, adorare i prestabiliti, se stanno dormendo beati e pacifici? Dipende. Se sono bimbi che stanno bene, che non hanno problematiche di crescita, che si scaricano nel modo corretto, cioè 4-5 pannolini di bimbi al giorno e una cacca ma grossa così al giorno, se li vedete rosei, se li vedete reattivi, no, non c'è necessità, perché vuol dire che stanno bene e che si stanno nutriendo in modo corretto. Ovviamente se invece, ad esempio, hanno avuto un calo di peso importante dopo la nascita, se sono stati dimessi con delle indicazioni particolari o se appunto la dimissione sono subentrate delle indicazioni cliniche particolari, allora no, è chiaro che vanno controllati, seguiti e stimolati di più. Ma, se tutte queste cose non sussistono, potete stare tranquilli, potete seguire il loro istinto e i loro segnali. Se si svegliano, hanno fame, se stanno dormendo, non li svegliate per dargli da mangiare, otterrete soltanto una gran confusione. Per essere sicuri che tutto vada bene, una visita con l'ostetrica appena rientrati dall'ospedale. Ciao!